Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi spiegherò come è fatto un computer Vedete il mio ha poca batteria però vabbè Allora, questa è la tastiera dove puoi digitare ciò che vuoi E qua ci sono i programmi che puoi aprire Oppure te li puoi scaricare e vabbè Allora, questo è Google Questo qua è per esplorare i file Questo qua, come leggete qua, sono le mail E questo qua è un programma per aprire i pdf Che si chiama Adobe Acrobat Reader DC Sì lo so, non è un po' lungo però Questo qua invece è per i virus Però non lo uso Questo qua è Amazon E questo qua è lo store Questo qua è un'altra cosa per navigare nel web Solo che io invece di usare questo uso Google Però niente Qua puoi cercare ciò che vuoi Una cosa che ho scoperto da poco È che sul computer c'è anche la calcolatrice Io non lo sapevo Perché dicevo No, no Mia madre mi diceva Luca, ma cerca col computer con la calcolatrice Io Ma non esiste Ehm... Vabbè, ho scoperto Ho cercato calcolatrice E... Vabbè, ho scoperto Vabbè Questo video si conclude qui E spero che vi sia piaciuto Ehm... Ciao 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 Grazie.